Ciao, io sono Giulio e sono un rapper. Se sei qui, significa che anche tu sei in fissa con il rap. E magari vorresti un mondo più green. Partecipa a Ricirep, il contest per i ragazzi delle medie di ricrea. Impari a reppare e a riciclare gli imballaggi di acciaio. Ti ha preso l'idea? Chiedi al tuo prof di registrare te e i tuoi compagni. Puoi partecipare come solista oppure, se ti va, formare la tua crew. Fuoco, industrial, pepite, respiro. Ascolta le quattro basi e scegli ne una. Hai trovato il tuo sound? Ora scrivi almeno due strofe e un ritornello. Tipo così. Perché noi umani siamo finti ambientalisti. Continua a pensare siamo autolesionisti. Parliamo di ambiente ma facciamolo riciclo. Che tappo dopo tappo mi faccio il biciclo. Con Ricrea mi si accende la speranza. Ricicla l'acciaio, fai la differenza. Ricordati di utilizzare la parola acciaio e una delle parole ricrea. Come ho fatto io. Pronte le tue barre? A questo punto registra la tua voce sulla base che hai scelto, senza dimenticare le cuffie. Scegli pure quelle che vuoi. Sull'app puoi salvare fino a 10 rec. Riascoltati e invia la migliore. Fai rich rap e vinci i premi fantastici! Grazie. 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 Grazie.